Questa di Vianelli è una nosa questione, ho fatto molte riunioni con i proprietari, con quelli che insomma riuniscono e coordinano un po' i proprietari, i residuali, perché spieghiamo chi ci ascolta, ci sono una parte degli appartamenti è di proprietà del comune, una parte è di proprietà dell'Ater, dell'azienda territoriale, però tra il comune e l'azienda non si è arrivati ad acquisire il 75% della proprietà che darebbe la possibilità di attuare un progetto e quindi un piano, per cui se i proprietari a cui abbiamo fatto tutta una serie di proposte che sono, dà la possibilità di acquisire anche in più, quindi più proprietari, altri beni comunali, quindi abbiamo messo a disposizione la lista degli appartamenti e degli altri beni comunali, in modo che si possa fare una valutazione. C'è la possibilità attraverso la normativa che approveremo a breve di utilizzare i crediti edilizi, cioè uno mantiene la cubatura che potrà essere utilizzata in altre zone edificabili comunali. Ho fatto la proposta a tutti quanti di trasferire l'intera volumetria su un terreno comunale, in modo che tutti i 125 proprietari siano proprietari a loro volta di una cubatura all'interno di un'area dove poter edificare un bene. Quindi le proposte sono state fatte. I proprietari adesso debbono, e sono stati già tutti avvisati, contattare i nostri uffici, però, lo dico francamente, se entro il 30 di giugno non si riuscirà ad ottenere questa percentuale del 75% delle adesioni, sommando le proprietà del Comune, dell'Ater e di quelli che cederanno nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, il Comune comunque non starà fermo e quindi sentiremo l'Università e sentiremo l'Ater per adeguare e calare un progetto su quell'area e quindi abbattere definitivamente quei volumi e realizzare una nuova struttura, anche di carattere universitario, anche di carattere pubblico. Sono esattamente 125 quelli che rimangono. Dobbiamo anche essere chiari, nel senso che il Comune ha acquisito alcune abitazioni in passato a un prezzo che non è più il prezzo di mercato. Nel senso, i 35 mila euro spesi per ogni appartamento negli anni passati non sono più il prezzo di quegli appartamenti. Le ultime aste, perché alcune di queste sono andate anche ad aste o esecuzioni, sono stati ceduti a 10-15 mila euro l'uno. Quindi anche le attese dei proprietari devono stare su quel valore e non sui valori precedenti.